Si va a Crotone, gli ultimi 90 minuti di campionato, i padroni di casa retrocessi, noi 14esimi, 15esimi. Come si va a quest'ultima partita? Con quali motivazioni? È chiaro che è una partita particolare sotto certi aspetti, però andremo con l'obiettivo di andare a verificare ancora dei ragazzi che ovviamente in prospettiva dovranno poi rientrare nell'organico della prossima stagione. Quindi è una partita oggetto di ulteriore verifica, dove andare a lavorare su questi ragazzi per farli crescere ancora, farli migliorare, già di qualche partita che stiamo andando anche nel corso della nostra tragitto. Tante volte ci siamo trovati, è stata la squadra del Parma la più giovane del campionato per tante partite, i ragazzi si sono messi in mostra, lo stanno facendo, stanno facendo la loro esperienza, quindi diciamo che questo passaggio servirà per il futuro, per il loro futuro. E in questo senso anche questa partita rappresenta uno step per andare a fare ulteriori verifiche sulla loro crescita, sul loro modo di stare in campo, su quello che devono fare per migliorare ancora. Detto questo, Circati e Camarà, così lo dico subito, andranno a, speriamo, a rinforzare la primavera perché ha un appuntamento importante anche la primavera e quindi giustamente come è stato nel nostro percorso, che abbiamo attinto dalla primavera nel corso della stagione e diversi ragazzi hanno esordito, hanno giocato sotto la mia esperienza, questa è la mia parentesi, è chiaro che ora in questo finale magari c'è bisogno che qualcuno possa tornare con la primavera e quindi lasciamo la primavera qualche ragazzo per poter far sì, c'era stata disponibilità di lasciare anche qualche ragazzo in più, ma andranno solo Camarà e Circati in questo senso, però è un bel rapporto che è nato fra il settore giovanile e la prima squadra e quindi in questo senso mi sembra giusto andare a premiare il lavoro anche del settore giovanile, ecco che ci ha dato una mano quest'anno in maniera inaspettata forse a volte, ma perché abbiamo avuto le problematiche di cui sapete. Ecco, mister, per quanto riguarda invece gli infortunati, reputo da qualcuno per quest'ultimo passerello? Guarda, nell'ultima partita, visto insomma, sono venuti fuori tre giocatori come Inglese, Benedicia e Bernabè, probabilmente Benedicia e Inglese riusciremo sul filo a recuperarli, no? Vediamo oggi l'allenamento di oggi, vediamo un attimo. Bernabè abbiamo forti dubbi, lo portiamo con noi, no? Fin da ultimo, però ecco, ovviamente ancora il colpo subito è stato molto forte e quindi, non so, vediamo, ma non so se potrà andare in campo, sarà difficile. Ecco, faccio l'ultima domanda da parte mia per adesso. Tu hai fatto capire che praticamente è quasi un ponte verso la prossima stagione, no? Se non sbaglio, il Parma dovrebbe, salvo qualcuno magari che avrà permessi speciali, lavorare altre due settimane, ancora senza campionato. Sono i primi giorni di lavoro per la prossima stagione o prima ci sarà questo famoso incontro con la società? Sì, sì, beh, certamente la prossima settimana ci parleremo con la società e ci diremo quello che sarà il disegno e il percorso da dover fare e poter fare e quindi, e poi di conseguenza vedremo e valuteremo un po' il tutto, vedremo quello che dovremo fare. Posso usarti, tra virgolette, come esperto, a prescindere dal tuo ruolo di allenatore del parco? Cioè, in questo momento, secondo te di cosa ha bisogno questa squadra per fare il salto di qualità? Visto che, nonostante tutto, nonostante i miglioramenti del gioco, nonostante effettivamente la compattezza maggiore e tutto quanto si è detto di buono in questo ultimo periodo, alla fine i risultati sono arrivati come si sperava. Ma guarda, innanzitutto, sì, è vero, la squadra l'ha messo tantissime volte, non siamo stati mai messi sotto da nessuno, nonostante avessimo sempre praticamente problematiche, ma nello stesso tempo, inaspettate, quando sono arrivato non me le aspettavo sicuramente, ma ha messo sempre in campo una squadra la più giovane del campionato, nonostante questo non siamo stati mai sotto di nessuno. È vero, con le squadre che ci superavano, alla fine della partita c'era grande rammarico perché magari non riuscivamo a vincere, ma ai punti per quello che la squadra aveva espresso sul campo, le occasioni create, le difficoltà messe agli altri, siamo stati sempre più vicini alla vittoria che alla sconfitta e per episodi non siamo riusciti a portarle a casa. È chiaro che questo va visto un po' nella sfortuna che ha attanagliato, ha colpito soprattutto anche il reparto d'attacco, perché ci ha visto privare di alcuni elementi importanti per tanto tempo e in questo senso non è facile per nessuna squadra sopperire ai numeri dei golfatti e ai punti presi, perché questa è una statistica che non sbaglia nel calcio. Lo abbiamo detto più volte anche facendo riferimento ad altre squadre e con altri attaccanti che sono andati in doppia cifra. E noi dovremo migliorare sicuramente, è chiaro, i numeri per quanto riguarda la fase realizzativa. Però, detto questo, la squadra ha tracciato un solco, ha tracciato un percorso, a mio avviso ha delle conoscenze importanti, tanti giocatori sono cresciuti e questo è tanta roba, perché poi per costruire una squadra ci vogliono degli anni per arrivare a degli obiettivi importanti. E se lo fai anche con una squadra tanto giovane, è chiaro che ci sarà più soddisfazione domani per la valorizzazione di questi giovani, nello stesso tempo però il percorso può essere un attimino un po' più così. Detto questo, dovremo aumentare sicuramente e migliorare il fatto di concretizzare di più, di essere più bravi sotto porta, perché c'è mancato quello, nonostante i 10-11 pali colpiti, gli episodi, i salvataggi, 4-5 salvataggi sulla linea, insomma c'è successo dentro e fuori il campo un po' di tutto, cose inaspettate che purtroppo fanno parte di alcune stagioni che un po' così, che partono nella maniera e guardiamo il Crotone che è una società anzi molto seria, competente, che in queste stagioni ha fatto stagioni di serie A, di importanti, c'è competenza a livello della proprietà, a livello di direttori, a livello di tutti, eppure è incappata in una stagione talmente sfortunata, disgraziata, che da puntare alla promozione si ritrova lì con un bravo allenatore e si ritrovano lì ad affrontare una stagione di un certo tipo. A volte il calcio lascia fuori delle sorprese incredibili, ma non perché, perché le stagioni prendono una piega con pressione, con paura, con timori, i calciatori non sono così sereni come dovrebbero poi nel momento in cui vanno a affrontare la partita e questo invece di giocare sull'entusiasmo giochi con timore che ti toglie qualcosina e può darsi che qualche errore sia di peso anche dall'eccessiva ansia che per fare una rincorsa affannata, abbiamo fatto nove risultati utili, una rincorsa, una rincorsa, magari è chiaro questo ti pone a una pressione alta di dover sempre recuperare, sempre partire da dietro, guardare gli altri davanti cosa fanno e non è una cosa ovviamente facile. Però detto questo sicuramente delle basi sono state tracciate in questo gruppo per il futuro. Grazie. Rocco, scusami, puoi scogliere l'audio dopo che hai fatto la domanda? Perché ti è molto iscritto ma continua a entrare il fatto di spiegare il computer. Grazie. Grazie. Posso? Posso chiedere? Sì, sì, prego. Mister, buongiorno. Io vi chiedo, c'è stato un momento preciso quest'anno, una partita in cui vi siete resi conto davvero che avreste potuto raggiungere il day off? Sì. Penso che dopo la scuola di Brescia, se invece è lì. Sì, ti rispondo subito, è facile. Dopo l'Alessandria, perché la squadra aveva trovato, stava ritrovando, stava uscendo fuori da un momento, diciamo, di quello che dicevo prima, di timore, di paura. Avevamo sorveschiato questo, superato, avevamo fatto delle vittorie consecutive, qualche vittoria, qualche risultato importante. La squadra stava trovando conoscenze, continuità. C'è stata una bella vittoria ad Alessandria che stava portando entusiasmo a noi e anche ai nostri tifosi, che è una cosa fondamentale, importante, di grande importanza. Invece poi dopo quella partita praticamente si è fermato il campionato per 35 giorni e dovevamo giocare le partite successive, sono state rinviate. Abbiamo perso ad Alessandria due giocatori, come Benedice e Inglese, che per contusioni sono uscite fuori e problematiche e che poi, andando avanti, non hanno recuperato subito. Sono sorte delle problematiche che lì poi dopo, strada facendo, piano piano, pur cercando di inserire i nuovi a gennaio, nell'ultimo giorno di mercato, anche loro sono arrivati con qualche, purtroppo, impiccio. E questo sta, io non voglio dire nulla, perché il Presidente ha fatto tutto quello, ha fatto il massimo di quello che si può fare al mercato di gennaio, hanno fatto tanto i direttori, abbiamo fatto tanto tutti noi, questo non vuol dire che si sia fatto tutto perfetto. Però l'idea era quella di farlo perfetto, poi valla a sapere che ci sarebbe caduto addosso di ogni partita a 13 giocatori fuori, problematiche su problematiche. Questo sicuramente era una cosa inaspettata, che vuoi o non vuoi, nonostante tutto, abbiamo cercato di superare, valorizzando giocatori, cercando di essere sempre sul pezzo, sempre sulla partita e giocando, migliorando sul gioco, migliorando individualmente, però magari è chiaro che andando avanti questa tante indisponibilità, inaspettate, sono state cose che non ci aspettavamo assolutamente, hanno fatto sì che ovviamente perdessimo delle cose strada facendo, perdessimo qualche punto in più. Pensando ai quasi sei mesi dal momento del suo arrivo, c'è qualcosa che se avesse la possibilità non rifarebbe una scelta, il carattere d'età, un'informazione, una decisione in qualche frangente che se potessi mangiare potrebbe... Guarda, è una domanda che mi sono fatto anche io, ovviamente noi quando andiamo a casa ci facciamo domande e vediamo, io sono partito qui con il 4-3-1-2, poi nelle successive partite un allenatore cerca sempre di trovare un vestito che possa essere adatto ai giocatori della propria squadra, c'era la necessità, mi dava fastidio vedere fuori squadra man, mi dava fastidio tenere fuori squadra magari i giocatori che avevano... mi stavano dimostrando una crescita settimanale sul campo durante gli allenamenti, vedi Bernabè, vedi strada facendo anche Ciscati che stava crescendo, vedi del Prato, mi dava fastidio lo stesso Cobo, mi dava fastidio vedere Vasquez un po' e siamo partiti, sono passato al 3-5-2, però dopo mi dava fastidio vedere Vasquez un po' troppo sacrificato dietro e quindi l'ho spostato davanti, mi era successo già quando l'ho allenato al Palermo, di fare una cosa del genere e quindi quando abbiamo trovato un po' di conoscenza in più abbiamo provato a fare una rincorsa senza privarci dei giocatori forse più qualitativi della rosa, della squadra, no? Senza nulla togliere agli altri e in concomitanza con qualche assenza abbiamo approfittato per mandare in campo una squadra che fosse propositiva, che fosse equilibrata e nello stesso tempo però che desse qualità al gioco e quindi privilegiasse la manovra, privilegiasse la profondità, privilegiasse ecco la tecnica e la forza dei suoi giocatori sul campo e da qui è nata una squadra con il 3-4-1-2 che doveva andare a fare e a provare questa rincorsa e anche per dare alla squadra una mentalità, no? Un atteggiamento non di timore ma di coraggio e quindi a volte l'allenatore deve fare dei passaggi, deve fare delle scelte anche per trasmettere coraggio alla squadra e la scelta di andare a giocare in questa maniera è stata dettata proprio dalla volontà di voler inserire in campo giocatori che avevano una qualità importante e nello stesso tempo di voler andare a dare fiducia, coraggio alla squadra, al gruppo per dire oh ce l'andiamo a giocare, a volte accetteremo dietro l'uno contro uno ma andiamo a giocarci le partite, avevamo trovato conoscenze nella fase difensiva che ha retto bene nel complesso e abbiamo, siamo andati a giocarci creando in ogni partita diverse occasioni da gol e quelle dovevamo essere più bravi però a concretizzarle e quello che dicevamo prima nella prima domanda di Sandro dove abbiamo un po' ecco non siamo stati così fortunati a volte abili nell'andare a concretizzare queste occasioni quindi il progetto era quello però la scelta di Vasquez di posizionarlo tre quarti più avanzato ha portato a far sì che lui facesse 13 gol, ha preso 5 pali penso 4-5 pali e quindi voglio dire trovare un vestito giusto alle caratteristiche di questa squadra penso che potevano, era quella il percorso da dover fare poi i punti sono legati a volte al fatto di essere più concreti o meno concreti di avere dei giocatori che stanno in buona condizione o alcuni che sono in infermeria e non puoi utilizzare abbiamo fatto più volte gli esempi dai se a Coda a Lecce fosse mancato Coda che ha fatto 21 gol come è mancato Inglese a noi è chiaro che o lo Zapata dell'Atalanta o il Muri dell'Atalanta è chiaro che i punti sarebbero stati di più questo è il sale del calcio poi no? Ogni squadra deve avere i suoi la sua coppia d'attacco i suoi attaccanti che possono giocare anche con continuità perché dare la continuità del lavoro sul campo può far sì anche di poter avere alla squadra anche davanti delle certezze. Abbiamo provato poi con Simi, è un ragazzo che è bravissimo sul piano della professionalità, della serietà, un ragazzo d'oro purtroppo è arrivato con un trascorso di 5-6 mesi non positivi e se avesse fatto con i secco di mano non si fa nulla però se fosse arrivato, avesse sfruttato quelle 5-6 occasioni che ha avuto probabilmente sarebbe cambiata la stagione sua e anche la nostra purtroppo non è stato così e quindi ci siamo portati dietro poi qualche piccola, qualche problematica che ci è costata a qualche punto ma questo non è dare assolutamente nessuna responsabilità perché i ragazzi hanno dato veramente tutto e ci hanno creduto, ci hanno creduto fino a qualche partita fa però non perché poi le abbiamo snobbate le ultime, le hanno sempre onorate ma è chiaro che la volontà e c'è grande dispiacere per la società, per la squadra, per noi, per i nostri tifosi che ci hanno sempre appoggiato quando hanno visto che la squadra combatteva, lottava, giocava con questo atteggiamento e questa mentalità e quindi penso che questo sia stato apprezzato e quindi in quel momento no, rammarico di aver cambiato, di aver fatto no perché in quel momento della stagione serviva dare una spinta ulteriore, se non l'avessimo fatto oggi saremmo andati a dormire al contrario con la sensazione di aver detto ma perché non ci abbiamo provato, perché non abbiamo giocato con un trequartista più due punte visto che dovevamo recuperare una classifica e quindi eravamo di rincorsa e quindi si è fatto tutto quello che si poteva fare, al meglio certo ci sono state tante problematiche che ovviamente non avevo potuto mettere, non avevamo nessuno potuto mettere in conto, inaspettate, però detto questo fa parte delle stagioni, del calcio ma io guardo il bicchiere mezzo pieno, si sono gettate le basi su un gruppo di ragazzi, di giovani che sono cresciuti, hanno un atteggiamento giusto, hanno avuto sempre sul campo qui a Collecchio un atteggiamento giusto, positivo di impegno e questo è importante. Poi coniugare i risultati per costruire una casa a volte ci vuole un po' più di tempo, soprattutto quando nevica, c'è temporale, grandine e ti assalgono delle cose impreviste dall'esterno nel senso di problematiche che ti sono venute addosso. A proposito di giovani, mister, poi concludo e passo la parola al collega, volevo chiedere, quest'anno dato che lei ha lanciato tanti giorni, tra questi l'ha impressionato maggiormente, magari viceversa crede che non sia riuscito a esprimersi al meglio delle proprie qualità, ma lei ovviamente ha visto che forse di dire a me. Sì, ma fare qualche nome, guarda, facevo dei nomi prima, io quando sono arrivato ho visto crescere tanto diversi ragazzi, ecco, è cresciuto tanto del Prato, Turk, pensiamo che avrebbero giocato 11 partite con Turk e il terzo portiere all'inizio della stagione se ci avessero detto, o quando sono arrivato qui me l'avessero detto non ci avrei creduto, ecco perché sono cose che non succedono mai in una vita di sport, a me da giocatore e da allenatore non mi è mai capitato così una cosa del genere, però Turk è cresciuto tanto, è cresciuto del Prato, Circatico, Bo, parliamo dei giovani ovviamente perché è la domanda, ma anche i più grandi sono cresciuti molto sotto questo aspetto, se dico Bernabè, Juric, lo stesso Somm quando ha fatto le sue partite e poi ha avuto qualche problematica fisica, quindi purtroppo non ha potuto giocare, ma ha fatto delle partite in crescita, Benedicia, Benedicia che è un ragazzo che ha margini di crescita, lo stesso Tutino, davanti dei ragazzi che sono cresciuti tecnicamente, sono cresciuti anche sotto l'aspetto dell'atteggiamento, della mentalità, della malizia, dell'andare a prendere posizionamenti giusti sul campo e ho visto crescere, i Camarà anche se non ha giocato tanto, ma tanti giovani sono cresciuti qua tutti, devo dire, poi magari ecco, Coulibaly veniva da un infortunio molto serio, quando sono arrivato l'ho trovato fuori e l'abbiamo recuperato dopo due mesi e mezzo, il discorso di Eccosterwood per fare un altro nome, sicuramente è un ragazzo che ha bisogno ancora di lavorare perché la lingua, un po' il discorso tattico, qui in Italia è un po' più soggetto a questo tipo di lavoro, perché è giusto che sia così, nella crescita della tattica individuale e di reparto è un ragazzo che ha margini di crescita, lui ecco, e quindi è normale, è arrivato da tre mesi e quindi ci sono dei ragazzi ai quali dobbiamo dare un attimino un po' più di tempo e di lavoro per poter arrivare a crescere e a maturare ancora di più. Anzi, devo dire che se avessi potuto oggi, nelle ultime partite, come vi avevo detto la scorsa settimana, avrei fatto esordire degli altri ragazzi che sono in primavera, che quando abbiamo giocato insieme, o io seguo, vado a vedere, mando a vedere, alcuni ragazzi che avevano, hanno delle caratteristiche di crescita, lo stesso Sizz che è cresciuto tanto, ha giocato due partite titolare, no? Due o tre partite titolare, è entrato e quindi voglio dire, ragazzi che hanno fatto bene, però ce ne sono altri in primavera, ragazzi interessanti che avrebbero meritato anche loro di poter, in quest'ultimo scorso, poter esordire, ma non l'abbiamo fatto per non toglierli, ovviamente, al mio collega, non toglierli alla primavera, perché stavano giocandosi anche loro un qualcosa di importante. Vi saluto a tutti, saluto i tifosi e ci auguriamo per un futuro migliore, ma sicuramente il Parma, il suo futuro, lo ha tracciato già, ce l'ha tracciato, il Parma è una società, è una piazza che sicuramente tornerà dove merita, perché ci sono valori, perché c'è serietà nel lavoro, c'è un ambiente di tifoseria, in tutti i suoi aspetti, importante. È chiaro, certe volte per arrivare, arrivi in certi momenti, in alcuni posti, dove magari arrivi che tutto è messo a posto, i cassetti sono tutti in ordine, quindi con due cose risolvi. Ci sono dei momenti o delle annate magari dove c'è bisogno, questa è una società nuova che è arrivata, sta mettendo in ordine delle cose, sta ricostruendo delle cose, e quindi quando c'è un cambiamento è normale che ci possano essere delle cose così, ma il gusto di questo lavoro non è trovare sempre le tavole apparecchiate e fare le cose e vederle accomodate e navigare su quell'onda lì. Il bello di questo lavoro è anche quello di trovare difficoltà, risolverle e cambiare il futuro. È quello che deve fare il Parma e che bisognerà fare qui a Parma. Quindi siamo impegnati in questo senso. Un abbraccio a tutti, buon lavoro. Grazie.